Ecco Tonali, da Tomori a Tonali, palla lunga di Sandro, molto alta, molto alta, no Sandro no, andiamo per gradi. Pioli voleva, il nostro allenatore voleva che la passasse al giocatore più vicino, in orizzontale. Adesso vuole che salgano i nostri giocatori a pressare il mister. Ancora la palla di Isai, Isai torna indietro, Isai lancio di Acerbi, palla che viene recuperata in mezzo da Fichto Mori. Fichto Mori, Fichto Mori, la tiene la controlla, avanza Fichto, dentro per Ante Ante, Ante Ante per Teoteo, 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 dentro, anticipato Krunic. Voleva Teo che Krunic andasse incontro, poi Cataldi da palla dietro, Teo pressa alto, Teo pressa alto, ancora la Lazio con Cataldi. Cataldi la rimette in mezzo, questa palla, la deviazione di Fichto, il recupero di Calulu, Calulu con la punta del piede, il pallone di qua si gioca, che sì, che sì per Teoteo, Teoteo la mette in mezzo, la palla, Ibra, 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 la deviazione fuori, fuori, fuori in angolo. Clamorosa occasione nostra, il tiro di Ibra deviato, Zracoscia temeva che entrasse, qui vediamo, ha subito fallo Calulu, altro che Calulu ha preso la palla piena e ha subito fallo. Qui la grande giocata, qui Ibra ha avuto la grande palla, se l'è aggiustata, poi la deviazione. Si è salvata immolandosi in angolo la Lazio, sale Meckers, dai Alexi, dai Alexi, una bella traiettoria belga Alexi, dai una bella belga Alexi, dai una belgata Alexi, dai Alexi. Ecco la palla messa in mezzo, troppo alta, troppo alta, troppo alta, un colpo di testa Lazio, ancora Teoteo, Teoteo il tiro alto. Alto, 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 sfiora l'incrocio ma è alto Teoteo, palla alta, palla alta di Teoteo, che poteva anche calibrarla un filo meglio ma gli è scappata via, vediamo, è uscita, non di molto, non di molto, ha sfiorato veramente l'incrocio Teoteo. Mani sul volto di Tonali, mani sul volto di Leao, grande partita del Milan ma 1 a 1. Ecco Stracoscia, Stracoscia pronto a riprendere il gioco, palla lunga del portiere della Lazio, 5 minuti di recupero a Roma Olimpico e poi c'è Fichto Mori che rimette palla in gioco, colpo di testa Lazio, si gioca rimpiattino, vai Krunic lotta, Cataldi subisce fallo, calcio di punizione Lazio, a terra entrambi, sia Cataldi che Krunic e quindi fra poco si riparte con il calcio di punizione Lazio. Terra Cataldi va Cataldi pronto a battere la punizione e la palla esce la palla della Lazio esce adesso tocca al Milan ripartire con Mignon lancio lungo di Mike Ibra di testa, non riesce, erano troppo vicini Salemekers e Rebic, tutte e due nello stesso posto dovevamo averne uno largo, bravo Kala bravo Kala, Salemekers è bravissima, servire Tonali vai Sandro, vai Sandro, guida l'assalto Sandro guida l'assalto Sandro Palla di qua, Ibra di testa, di testa dietro la sfiora Rebic, no ragazzi, no non così, non così poi Kessi prova a recuperarla prova a recuperarla la palla esce, Kessi con la punta del piede niente, sfortunati sfortunati, la difende Marusic torna indietro Marusic Marusic pressato da Rebic Rebic prende la palla Ante, Ante, prende la palla Ante, Ante, aspetta, crossare Ante palla lì in aria Ibra di testa, Tonali gol, Sandro meritato Sandro gol gol ve lo meritate i nostri tifosi Sandro Sandro con la punta salta del piede Sandro sì sì con l'anima con il cuore Zitti Zitti giù la testa giù la testa giù la testa gol 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 Sandro Sandro nello stesso angolo di Olivier Rebic 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 il colpo di testa della Lazio non ha funzionato poi Ibra assist di Ibra gol di Sandro Tonali meraviglioso si toglie la maglia santa la tocca con la punta santa nel piede Sandro Tonali baciato dal milanismo della vita eterna Sandro gol 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 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 la tocca con il quadricipite la mette con la punta del piede l'esultanza meravigliosa dei nostri tifosi meravigliosi Sandro guardala guardala Sandro guardala Sandro aia mi fa male il quadricipite ragazzi mi fa male il quadricipite o male il quadricipite aia più grido più o male il quadricipite è un dolore di questi giorni gol di Sandro c'è una munizione per Sandro Tonali ha munito anche lui quanti ce ne devono ammonire ancora attenzione palla lunga Lazio attenzione ante ante lotta attenzione Milinkovic Krunic che si che si la gioca per ante Rebic andiamo ante ante punta ante ante punta ante ante viene dietro Ibra Ibra piano 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 contro piede nostro Krunic Krunic Ibra no non perde lo trattu non perde lo trattu non perde lo trattu e allora c'è double K che si che serve Fic che serve Teoteo palla nostra dai ragazzi anima Ibra con il petto sacro dell'assist a Sandro Tonalissimo ecco il fallo di Alexi Salemekers calcio di punizione Lazio se ne va Alexi attenzione ecco si fa sentire la nostra gente meravigliosa attenzione a Lazio che avanza Basic Basic la tiene la controlla ancora Isai palla alta e lunga palla alta e lunga la palla esce è fuori era già fuori era già fuori era già fuori e allora e allora inquadrato Teoteo eccolo eccolo Teoteo eccolo Teoteo che si prepara a rimettere palla in gioco vediamo ragazzi mal di testa e male al quadricipito dai dai attenzione Stracoscia palla lunga palla lunga colpo di testa Lazio va Calabria di testa colpo di testa Tonali poi la prolunga Krunic Krunic dietro che si che si ha fatto giocare altri 30 secondi all'arbitro guida poi grandissimo recupero di Teo Hernandez colonna d'Ercole colonna d'Ercole Teo tienila Alexi tienila ancora la palla di Ante 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 sì mister sì mister sì 2 a 1 per noi i tifosi del Milan meravigliosi Leao va a abbracciare Tonali Calabria si abbracciano tutti si abbracciano tutti bellissimi bellissimi meritata giusta 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 dovete fare i conti col Milan chi chiacchiera deve parlare con noi prima di parlare dovete parlare con noi con noi con il nostro sacropetto con la nostra santa punta del piede di Tonali si parla con noi prima di chiacchierare 2 a 1 per noi 2 a 1 per noi 2 a 1 per noi pensavano e invece no noi il Milan 2 a 1 Roma 2 a 1 Roma 2 a 1 Roma ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti